hello guys benvenuti in questo nuovo video e soprattutto buon halloween o halloween come direbbe qualcuno e come avevo già accennato dal mio post su youtube oggi effettueremo un unboxing di un prodotto vintage che è la collezione leggendaria del mondo di joy ho già sbustato in passato la pochi giorni fa anzi la collezione leggendaria kaiba ma anche la collezione leggendaria 5d quindi qualora dovessero interessarvi vi lascio come al solito i link qui nel video sotto in descrizione velocemente andate a vedere i contenuti della legendary collection possiamo notare quindi cinque bustine si cinque bustine poi va be la classica plancia che metteremo poi come sfondo a ci sono addirittura i token poi mi sa tre carte ultra rare nuove non lo so vabbè c'è una romea aperta quindi non so cosa troveremo all'interno tranne per alcune carte che mi hanno spinto a comprare la collezione leggendaria poi è già aperta ma appunto mi era stato già detto che la confezione fosse appunto danneggiata quindi mi va benissimo e il motivo per cui ho aperto ho comprato scusate questa collezione leggendaria è stato per il silva secret e ora direte ma scusa non potevi comprarlo singolo beh assolutamente ah no non è la confezione legge danneggiata c'è un altro cielo fan sopra vabbè stavo dicendo ma non facevi prima a comprarti nei singoli sì probabile non so il prezzo però diciamo mi andava di portarlo qui su youtube e soprattutto si trova anche il red eyes che però abbiamo già comprato procurato in triplice copia da tenere nel mio album dedicato a lui perché c'è per la carta preferita e prima di continuare se ti piacciono questo tipo di unboxing mentre procedo anzi vi ricordo di iscriverti al canale dato che appunto mi sostiene diciamo si è nel mio il mio lavoro e mi aiuta ad andare avanti a portare altri contenuti di questo tipo quindi se ti piacciono contenuti a unboxing vintage o video inerenti a decro file quant'altro del di contenuti retro format come edison tengo plant att eccetera eccetera iscriviti al canale dato che appunto può piacerti appunti come contenuto allora continuando abbiamo il promo pack che come al solito è il primo che apriremo e andiamo in questa serata spaventosa sperando che questo unboxing sia da paura come si suol dire allora le carte ultrarie che troveremo all'interno non ne ho idea quindi andremo a vedere quindi spadaccino del fuoco blu quindi immagino sia sempre la classica cosa della rivisitare le carte vecchie le drp a formazione fenicia mazza che figo l'artwork carta delle ultime volontà a e poi immagino siano i segna mostro e siano tutti e 4 ok a tutti e 6 ok quindi sono quelli del lamp god e dei capro espiatorio quindi molto fighi questi qui me li avevo procurati poco fa a leggere prima la cosa avrei evitato di comprare quindi signori procediamo con i pack che è la cosa appunto per cui siete più curiosi anche in prima edizione a meno che non ci fossero state altre edizioni non lo so e non ho idea nemmeno dell'ordine delle carte quindi allora tanto mettiamo così non ho idea se si veda o meno ok signore delle fiamme mazza uh questa ce l'ho super e mi pare che abbiano tradotto male l'effetto bellissimo lo spiritriper ultra guarda che figo è lui ok quindi terreno di caccia delle delle arpie e vabbè non poteva essere il mio box se non ci fosse stato lui no ovviamente ma è ovvio che ci sia il mio redice a farmi compagnia la vivernocchierossi com ah l'hanno fatto com ma ammazza che bruttina com non poteva che non essere il mio box senza un redice cioè almeno in ogni video deve spuntare il redice per qualche ragione poi è una delle carte più belle del gioco secondo me e molto direzionato appunto nei mazzi drago in generale in edizione in tanko plant quindi caso che dovesse interessarmi andate a vedere le liste appunto dei miei disaster dragon allora vabbè cacciatore di teschi megasoler un accordo col signor oscuro rota ultra richiamo il posseduto super e sole non è secret mazza c'è una bomba di collezione se c'è tutta sta roba e abbiamo trovato le carte belle insomma spero di trovare davvero il silva signori perché è veramente figa 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 come carta e maledetta 20 figa e dark con anche uno degli archetipi più belli quindi dati graziosi so a pendente nero distruzione a catena corno nel paradiso ultra polimerizzazione chiamola secret è una spell cancello nel mondo oscuro ok niente di che ma ugualmente trago revolver per magari chi è interessato a giocare gotto insieme al ninja fulmino non mi ricordo se questo si giocasse però nel caso mettiamo sempre la parte dei com non so perché li stavo mettendo qui ma in dettagli allora ci mancano soltanto due pack poi signori avremo altri unboxing anche di qualcosa forse differente da yugi e le ho sbussate prima però le caricherò dopo e spero magari possa piacervi come contenuto sul canale se no vabbè con ht con catena scusate secondo lancio della moneta spazza la ricoda visionario questo sempre questo è una carta sottovalutata draghetto delle arpie ultra ok la supera paladina mazzones la secret una trappola buco trappola senza fine anche questo molto 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 figa ok fino ad ora abbiamo trovato il silva che io gradisco un sacco e poi ripeto non so quale sia la lista completa di questo set onestamente veramente figo cioè trovarlo a un prezzo decente ne comprerei un altro super volentieri anzi se volete fatemelo sapere qui sotto nei commenti se arriviamo abbastanza mi piace tipo 40 30 ne compriamo un altro va giusto per pillola dell'evoluzione gigante questa c'è un sacco di ricordi ragazzi perché il mio primo structure deck è stato quello di tracciando vabbè yuki e kaiba e jovi e pegasus anche davvero piccolino però quando mi sono riapprocciato al gioco più avanti nel 2008 2009 ho comprato lo structure deck del dinosauro il tirannosauro superconduttore mamma mia e questa era tipo una delle gold card di quel mazzo tesco evocato bellissimo ok tigra mazzone sultra richiamo della mummia questo è l'ultimo pack che andiamo prima con le commenti c'era dopo oscuro riu cochi ci siamo spoilerati che una spell che ah no c'è un altro eh no ce la siamo spoilerati sperazione ah il dark hall secret magari col dark hall dragon potrebbe salire di prezzo però di base dai non è andato proprio malissimo anzi abbiamo il red ice secret che veramente veramente figo lo spirito meditore ultra che non mi aspettavo di trovare ma soprattutto abbiamo anche il giudizio solenne quindi not bad come secret adesso andrò a imbustarle ovviamente come ogni mio video non le lascio così selvagge e niente ragazzuoli io vi ringrazio aver guardato il video fino a questo punto vi auguro ovviamente buon halloween come si vuol dire e arrivederci al prossimo video see you next time con un prodotto diverso da questo gioco